Il rapporto con i 5 Stelle in qualche modo aiuterà questa vittoria a Torino e a Milano a svelenire oggi Salvini? Era evidente che questa era una parentesi complicata nel rapporto, io spero che questa parentesi si chiude, questa parentesi complicata, ma era nelle cose, non si poteva fare altrimenti di così.